Una mostra di immagini e cimili storici sulle tre esposizioni universali che si tennero a Torino tra 8 e 900 prima della memorabile edizione del 1961 per il centenario dell'Unità d'Italia. Fino al 25 settembre nella Biblioteca della Regione è allestita Torino Internazionale, le grandi expo universali tra 8 e 900, ideata dal Centro Studi Piemontesi. Sul sito dell'Assemblea, sezione per il cittadino, mostra del consiglio, è possibile anche la visita virtuale.